I monaci tibetani del monastero Gaden Sharsenhorling saranno a Napoli dal 16 al 22 aprile nell'ambito del dodicesimo tour per la pace interiore e mondiale. L'evento è realizzato dai monaci con la benedizione del Dipartimento di Religione e Cultura dell'Amministrazione Centrale di Sua Santità il Dalai Lama, la coordinazione mondiale dell'Associazione Multiculturale Incarri e l'organizzazione del Centro Culturale Ametista di Napoli. Il Centro Ametista si occupa di fornire uno spazio adeguato e la coordinazione a tutti coloro che hanno delle discipline, delle tecniche, e delle ricerche in particolare rivolte alla crescita spirituale innanzitutto e alla salute psicofisica e mentale. Il tour ha lo scopo di condividere la pace interiore e l'incontro delle tradizioni sacre orientali ed occidentali attraverso cerimonie, canti e danze appartenenti alle tradizioni tibetane ed a quelle delle regioni che percorre nel mondo. Per promuoverli saranno realizzate cerimonie di iniziazione, meditazione e purificazione che hanno le loro basi sui principi tramandati attraverso la cultura tibetana nel corso della sua storia, favorendo lo sviluppo del potenziale umano e della sua armonia. Il tema principale di questo tour è la pace, la pace interiore e il poter comunicare il messaggio di che cos'è la pace che si può trasmettere. Verrà allestito inoltre un villaggio della pace che seguirà in forma itinerante tra Piazza Dante, il Parco Virgiliano e il Centro Polifunzionale di Soccavo gli eventi pubblici che si svolgeranno in alcune location della città con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli. Luoghi in cui sarà possibile, oltre a seguire gli eventi e visitare il mercatino dell'artigianato, acquistare libri e altri manufatti. L'evento più spettacolare ed artistico sarà la costruzione del Mandala di Sabbia che si terrà la domenica a chiusura del tour presso il Centro Polifunzionale di Soccavo. Per informazioni è possibile visitare il sito www.centroametista.org Da qui deve partire un messaggio che come amministrazione stiamo cercando di portare avanti e cioè che la città più laica è quella che consente l'espressione del maggior numero di religi.